... Rassegna stampa del mattino, buongiorno e benvenuti cari telespettatori di FanoTV. Oggi è giovedì 12 novembre 2020, sono le 7 in punto e siete sul canale 17 di FanoTV che come tutte le mattine si apre, apre la giornata informativa in diretta con la lettura dei giornali, i titoli delle notizie più importanti. Abbiamo selezionato come sempre le pagine a nostro avviso più interessanti, quindi ve le faremo vedere tra poco. Andiamo prima a vedere però il tempo e anzi il santo, il santo di oggi. Il santo è oggi San Giosafat, il sole sorgerà alle 7.03 e tramonterà alle 16.46. Vediamo che cosa combina oggi l'anticiclone. L'anticiclone è ancora lì ma c'è del passo, più nuvole e anche qualche pioggia tra oggi e domani. Questo è il bollettino di oggi della protezione civile delle Marche che per la giornata prevede nella mattinata rovesci sparsi in estensione da nord, dalla provincia pesarese fino a quella anconetana e poi la fascia montana e quella costiera. Insomma i fenomeni saranno poi occasionali altrove, le precipitazioni in esaurimento nel corso del pomeriggio, i venti di brezza leggera da settentrione lungo la costa. Ma poi domani insomma torna il tempo così come l'abbiamo vissuto fino a questi giorni, tutte queste giornate, con cielo poco nuvoloso, qualche nebbia e foschia nottetempo, così come la giornata di sabato, forse qualche gocciolina di pioggia la giornata di domenica, lunedì ma insomma poca roba, pochissima roba dal punto di vista meteo, c'è poco movimento. Allora andiamo adesso a vedere i titoli dei due giornali principali, il Carlino e il Corriere. Allora partiamo dallo sport, ieri si sono giocate due partite di serie C, l'Alma e la Vis Pesaro, Vis che ha perso dunque a proposito di nebbia, cala la nebbia fitta, buio pesto sul fronte Vis Pesaro Biancorosso, mentre una scintilla invece sull'Alma. E allora Biancorossi, K.O. Colcesena, fanno indenne a fermo, buio pesto Vis, scintill'Alma, questa è la fotonotizia del Carlino di oggi. Poi sul fronte invece Covid-19, ecco la buona notizia, contagi forse nelle marche, che il picco è alle spalle addirittura, i numeri della speranza. Parla Pompili, l'epidemiologo della Regione, che riflette su questa frenata che ormai è evidente da due settimane. Ma c'è anche la questione dell'ospedale unico, Ricci, il sindaco di Pesaro, si ferma al sottosegretario, nel senso che aveva annunciato che sarebbe andato a Roma, così ha fatto, ma è arrivato fino al sottosegretario, non al Ministro. Lui però dice che il Ministero è con noi, non c'è stato dunque l'incontro con Speranza. E poi la storia di un ristoratore fanese colpito dal Covid a marzo, che ha donato già due volte il suo plasma, il suo sangue, quindi il plasma iperimmune, si sta prestando a donare per la terza volta perché dicono che abbia degli anticorpi più unici che rari. Insomma, i positivi intanto in città, in città sono a quota 325, stiamo parlando di Pesaro, e sono 18 invece i paesi Covid-free. Andremo a vedere una tabella, ci soffermeremo, interessante, comune per comune. I test, la vuela, la prova dei tamponi, un altro giocatore con i sintomi, e poi l'annuncio del direttore generale di Marche Multiservizi, l'amministratore delegato, che dice il digestore, e questo è ufficiale, si farà a Talacchio. Alpitur ingloba Eden, allarme tra i dipendenti, parliamo di turismo e aziende, il colosso torinese parla di riorganizzazione via gli incontri con i sindacati. E poi, questa è la buona notizia per i possessori proprietari di auto di marca BMW, sono stati presi i ladri che smontavano letteralmente solo questo tipo di automobili, le BMW. Avevano rubato volanti e cruscotti, hanno avuto un incidente l'altro giorno, durante la fuga, poi però sono stati acciuffati. Il Corriere Adriatico, il nuovo ospedale non si ferma, titolo d'apertura di oggi dell'edizione di Pesero. Matteo Ricci, ieri al Ministero, per il sottosegretario Sandra Zampa, dice il progetto è troppo avanzato, quindi non si può fermare. Il centrodestra ribatte, si costruirà il presidio di Pesero, ma non sarà unico operativo, dunque il Santa Croce. A centro pagina, invece per i pesaresi, la ruspa che a largo Loreto sostituirà i 200 New Jersey, quindi tutte queste cose qua, queste barriere di plastica bianche e rosse, con una rotatoria definitiva. Il professor invece, qui adesso dovete aspettare qualche secondo, che non so perché, stamattina, eccolo qua. Il professor Franzini, nelle Marche, dice sono in cura 20 pazienti con lo zonoterapia. Anche questa è un'intervista che andremo a vedere poi nel dettaglio, l'intervista di Martina Marinangeli, perché è un'intervista interessante, parla di questa terapia, lo zonoterapia, che è in funzione anti-Covid e che ormai sta curando e ha curato più di una ventina di persone. Le pagine interne, allora, andiamo subito a vedere i numeri, i numeri di questo Covid nelle Marche. Abbiamo detto che la situazione... Qui ci sono due scuole di pensiero, due linee, anzi, due linee, che sono quelle dei due giornali. Allora, il Corriere Adriatico, che è pessimista in questo senso e che continua su questa linea e quindi vorrebbe evidentemente, vede un po' più nero e quindi vorrebbe qualche decisione un po' più stringente, un po' più per cercare di uscire al più presto da questa pandemia, nelle Marche, mentre il Carlino è più speranzoso. Allora, vediamo il titolo del Corriere Adriatico. I numeri pressano Acquaroli. Valutiamo giorno per giorno. Nuovo record di positivi, 702 e 6 vittime. Rianimazione, pazienti raddoppiati in 14 giorni. Migliora la semi-intensiva. Domani cabina di regia del Governo, mentre il Governatore dice stiamo monitorando tutto, siamo al limite, ma possiamo gestire. E questo è il quadro sanitario dove il, qui lo potete vedere anche voi, così a colpo d'occhio nel vostro televisore di casa. Dicevo, i numeri, quelli tra parentesi, rappresentano il dato di due settimane fa, quindi di 14 giorni fa, mentre l'altro numero, quello senza parentesi, è il numero attuale. Quindi vedete, in terapia intensiva, oggi abbiamo 74 pazienti ricoverati, 14 giorni fa erano 39. Quindi poi ci sono le terapie non intensive, le terapie semi-intensive, che come abbiamo visto sono calati. Chiaramente in una regione che ha 1.200.000 abitanti, 74 persone in terapia intensiva, sparse in tutto il territorio, non sono certamente la fine del mondo. Poi c'è tutto il resto che però complica un po' la vita, nel senso le terapie non intensive, le terapie intensive, semi, quindi insomma comunque il numero dei ricoverati che è passato da 286, come vedete qua in basso, a 610. Questo è un po' il dato che certamente crea un po' di confusione all'interno degli ospedali. Ma vediamo adesso invece il resto del Carlino. Dicevamo, i contagi, i numeri della frenata marchigiana. Forse abbiamo già toccato il picco. È un virgolettato e quindi quando sui giornali vedete le virgolette, significa che è qualcuno che quella frase l'ha dichiarata. E che questo qualcuno, in questo caso, è un esperto, si chiama Marco Pompili, è l'epidemiologo della Regione Marche, che è diventato ancora una volta l'esperto più ascoltato dai vertici dell'ente. E dunque, che cosa dice? Dopo aver toccato il massimo nelle settimane, dal 19 al 25 d'ottobre, quando l'RT era 1,55, quindi l'RT, sapete, è l'indice di contagiosità, più è alto, più un paziente contagia altre, scusate, una persona contagia altre persone, più è alto e più ne contagia. La nostra Regione ha avuto un rallentamento, ecco, dell'incremento della curva epidemiologica, che ha spinto dunque la giunta guidata da Acquaroli a non stringere troppo i bulloni dei provvedimenti governativi. Marco Pompili dice ancora, la frenata dei contagi è evidente, ormai da due settimane, vedete, due settimane, e forse, forse, usa il condizionale, però forse abbiamo anche già toccato il picco. Dunque dovremmo essere, su quello che, già è una parola che abbiamo sentito, e abbiamo cominciato a familiarizzare con questa parola già nel mese di aprile, il plateau, dovremmo essere su questo plateau, ovvero la parte della curva che si appiattisce. Sono due settimane che il numero dei contagi si è stabilizzato e la crescita non è più esponenziale, detto ancora Marco Pompili. E dunque la speranza di tutti, a Palazzo Raffaello, è che le limitazioni ai luoghi pubblici confermino i risultati e il raffreddamento, così si dice in gergo, che questo raffreddamento diventi totale prima dell'inverno. L'altro dato è quello che i ricoveri, che non sono solo quelli di terapia intensiva, tanto temuti, ma anche quelli più ordinari in reparti semi-intensivi o di normale degenza Covid, si tornino un pochettino a normalizzare. Il boom iniziale aveva portato i nuovi ricoveri sui 40-45 al giorno, dando l'impressione di un'ondata incontenibile, un'onda incontenibile. Ma il rapporto tra dimissioni, questo è un altro dato importante che non dobbiamo sottovalutare, cioè il rapporto tra chi viene dimesso dall'ospedale e chi entra in ospedale, e questo rapporto sta cambiando, visto che i primi ricoverati d'autunno tendono ad essere ricoverati. Ok? Quindi questa è un po' la situazione che fa il resto del Carlino questa mattina. Sempre sul Carlino, 18 comuni ancora salvi, ma ieri record di infetti, 702, avevamo detto la provincia di Pesaro è sempre quella con il numero più basso, anche se ieri abbiamo toccato più di 80, quindi fa un certo effetto. Nelle Marche il dato più alto mai registrato, anche se la percentuale di crescita resta stabile. La pressione sugli ospedali è alta, però Marche Nord, Pesaro quindi, mantiene per il momento i suoi pazienti. Ora c'è invece da sottolineare, qui l'ho evidenziato, questo aspetto, che è un modo per informare in maniera più dettagliata anche i cittadini sull'andamento di questa epidemia nelle Marche. Luca Serfilippi della Lega è stato il primo firmatario di una risoluzione che è stata approvata poi, che prevede la diffusione di dati precisi per quanto riguarda i comuni per comune, anche per evitare che si producano allarmismi ingiustificati e soprattutto la diffusione di notizie non verificate. Allora, questo per farvi vedere un attimo com'è la situazione, comuni covid e comuni covid free. Quindi, con questa tabella, solitamente non viene mai pubblicata, oggi, e speriamo che da oggi, visto che è stata approvata questa mozione, si possa avere questo tipo di informazione, si vede, e uno fa due conti, e si fa l'idea giusta, di com'è la situazione nel proprio comune. Allora, per esempio, a Pesero, dove ci sono 100.000 abitanti, ci sono 325 positivi al covid. Fano, su 60.000, 64.000, 3.000 abitanti, ne ha 229. Urbino, 46.000, Mondolfo, 38.000, e via giù discorrendo, insomma, Vallefoglia, 29.000. Capite che, letti in questa maniera, chiaramente, i numeri fanno un po', cioè, uno si rende un po' più conto di come sta la situazione, anche nel proprio comune, perché uno che sta, per esempio, a Urbagna e che pensa di avere tutto il paese impestato, infestato e con tutte persone contagiate, in realtà, ci sono 11 persone che in questo momento hanno il covid. A Cagli sono 8, a Cartoceto sono 8 su un paese di qualche migliaio di persone. Quindi, si ha un po' meglio, si fa un po' meglio, insomma, l'idea. Chi sta a Frontino, invece, a Frontone, scusate, a Frontino, Fratterosa, San Lorenzo in Capo, sa che in questo momento, nel suo comune, insomma, la situazione è tranquilla, perlomeno tra quelli identificati, poi è chiaro che potrebbero esserci anche quelli che ancora devono essere scoperti, devono essere tracciati, che magari l'hanno preso, ma ancora sono asintomatici, quindi comunque vale la regola del stiamo attenti e stiamo anche a Fratterosa o San Lorenzo in Campo. Comunque, questa cosa dei dati comune per comune può essere importante. Intanto, da Mondavio, dal Corriere Adriatico, Covid, tamponi dopo due ricoveri, nella casa di riposo, 11 positivi. Il sindaco di Mondavio invita a limitare i contatti, Mondolfo, comune più esposto. Su questo fatto delle case di riposo, insomma, ci sarebbe da discutere molto, ma le polemiche in questi casi servono a poco, ma siccome questo è il, abbiamo detto, già ridetto più volte, che è il secondo tempo, ci siamo già passati sulle case di riposo, su tutte queste situazioni qua, e tante volte durante l'estate abbiamo detto che erano le prime che dovevano essere chiuse, dovevano essere sistemate, protette, eccetera, Oggi ci ritroviamo ancora a parlare di casi di riposo con dentro dei positivi. Ecco, vuol dire che qualcosa nel sistema non solo non ha funzionato la prima volta e lì, vabbè, uno dice è la prima volta, ero impreparato, ma quando non funziona per la seconda volta, quando hai già avuto esperienza, evidentemente c'è qualcosa che davvero non ha funzionato e questo qualcosa che non ha funzionato poi si ripercuote sulla pelle di queste povere persone che vivono all'interno di queste strutture e che poco possono fare perché poi a decidere sono gli altri, chi sta bene. Allora, donate il plasma intanto è l'appello dell'Avis Guido Tonnini di Mondolfo, sotto invece la notizia qui di taglio basso della morte a 67 anni di Roberta Gimignani morta nella sua abitazione in via Meroni a Mondolfo ha lottato a lungo contro un male incurabile e questa mattina il giornale la ricorda il giorno dopo i suoi funerali che sono stati celebrati ieri nella chiesa di Sant'Agostino in forma pubblica. Ora, c'è quest'altra notizia invece che vi segnalo sul Corriere Adriatico di Martina Marinangeli e che riguarda una delle tante terapie che vengono sperimentate vengono portate avanti con dei protocolli ormai abbastanza precisi negli ospedali e anche nelle marche ozonoterapia parliamo di questo il professor il presidente nazionale della società di ossigeno ozonoterapia lo vedete in questa foto è Mariano Franzini che risponde appunto e che ha rilasciato questa intervista al Corriere Adriatico nelle marche dice è partito già una settimana dieci giorni al massimo negli ospedali di Ascoli San Benedetto del Tronto e di Fermo ha avuto clamore quando sono uscite le notizie della lungimirante presa di posizione dell'assessore non so il numero preciso delle persone che in questo momento sono in terapia con questa terapia ma credo dice lui che siamo intorno a una ventina di persone allora che cosa come funziona come funziona funziona così prevede il prelievo di circa 150 cm cubi di sangue che vengono arricchiti con l'ozono e reinfusi nel paziente non è un trattamento traumatico perché dura circa mezz'ora e ogni terapia costa dai 10 ai 13 euro inoltre molto veloce prevede 4 e 6 sedute specialmente nelle prime fasi del covid nell'arco di 15 giorni dovrebbe risolversi l'ozono viene usato anche per altre malattie dice sì soprattutto nelle infezioni antibiotico resistenti quella dell'ozono è un'azione antivirale e antibatterica totale porta ad un innalzamento dell'immunità è un antinfiammatorio e inoltre abbiamo visto dice ancora che la sua azione antitrombotica porta ad una migliore circolazione del sangue e quindi il primo sintomo dei malati covid è proprio la diminuzione dell'ossigeno sanguigno quando viene dato l'ossigeno ozono la saturazione aumenta praticamente subito immediatamente e quindi porta tanti tanti benefici chiusa la parentesi del covid adesso andiamo a vedere l'altro argomento l'altra notizia del giorno è quella dell'ospedale unico se ne ha parlato anche nella giornata di ieri sapete la regione ha deciso di bloccare i project financing di questi ospedali credo siano tre più o meno tre o quattro quelli previsti nelle marche l'unico che probabilmente continuerà nel suo iter è quello di Pesero quello di Muraglia perché? perché lì il progetto è già in uno stato molto avanzato quindi è quasi impossibile fermarlo dunque il titolo del Corriere è questo il nuovo ospedale non si ferma il progetto è troppo avanzato Ricci incassa le assicurazioni della sottosegretaria a Sandra Zampa sottosegretaria al ministero poi nei prossimi giorni convocato un tavolo tecnico ho chiesto un incontro da Quaroli dice Ricci e anche all'assessore Salta Martini il centrodestra invece dice il nosocomio si farà ma non sarà un nosocomio unico con i vertici regionali a due mesi dall'insediamento credo sia giunto il tempo di confrontarsi sul covid intanto le prese di posizione di Massimo Seri e di Stefano Guzzi rispettivamente l'attuale sindaco e l'ex sindaco di Fano Massimo Seri che sulla clinica privata dice sull'ospedale di Unico dice la clinica privata è una nuova strada e non vanno perse sull'ospedale il sindaco di Fano si preoccupa di non perdere insomma i 121 milioni di euro del Cipe ed è convinto dell'utilità invece di una struttura ospedaliere di qualità e sfida il centrodestra regionale e dice se ha gli attributi cambi sito e addirittura scelga Chiaruccia quindi rilancia un po' la questione e rilancia il sito di Chiaruccia mentre Aguzzi dice soldi a Muraglia ma senza megastrutture tolto di mezzo l'ospedale Unico sarà potenziato il Santa Croce messa nel cassetto la strada per Muraglia dirottati sul casello di Fenile 20 milioni di euro mentre la clinica privata sarà lasciata all'iniziativa di privati lungimiranti il centrodestra risolve tutto l'abbiamo sempre detto Muraglia si fa ma non sarà unico Lega e Fratelli d'Italia smorzano le frizioni crescenti sul tema degli ospedali e poi l'assessore il caso Aguzzi l'assessore incompatibile come sindaco per 27 giorni la regione però dice è retroattiva la rimozione della causa adesso non entriamo nel dettaglio se no facciamo notte allora di gestore invece qui c'è la notizia che ormai è ufficiale il sito sarà a Talacchio quindi nel Pesarese Marche Multiservizi conferma che l'impianto sarà realizzato nella zona industriale della frazione di Vallefoglia la conferma arrivata ieri nella commissione società partecipate del comune di Pesaro Mauro Tiviroli che è amministratore legato di Marche Multiservizi ha riferito che sarà costruito nella zona industriale ma ci mostrerà più avanti la collocazione esatta detto Michele Redaelli che è il presidente appunto della commissione adesso invece sulla pagina di Pesaro numero 8 la pagina 8 del Carlino la questione Alpitour che ingloba Eden Eden Viaggi quella sede di Pesaro i dipendenti sono in allarme il colosso torinese parla di riorganizzazione del gruppo nella sede pesarese lavorano in 200 partiti gli incontri con i sindacati tutto sospeso per il momento perché non sono state preannunciate disdette dagli attuali locali e poi Piazza Redi che a Pesaro non sarà più in balia dei baby vandali educatori in campo telecamere verranno messe al parco Scarpellini mentre dicevamo della buona notizia per i possessori proprietari delle auto BMW rubati volanti e cruscotti due arresti avevano colpito tre volte durante la notte ma nella fuga all'alba hanno avuto un incidente sono stati bloccati dalla squadra mobile uno dei proprietari di queste auto visitate dai ladri dice la polizia mi ha suonato alle 6 e un quarto del mattino dicendomi del furto della mia macchina di fatto mi hanno lasciato solo la manopola del cambio io non mi sono accorto del furto dice lui perché la macchina benché super accessoriata non ha una sirena e dunque se rubano all'interno nessuno se ne accorge sono stato svegliato dalla polizia mi hanno informato che la macchina era stata visitata da ladri ma che erano stati presi appena presi acciuffati i malviventi quando poi dice mi hanno fatto vedere l'elettronica ho visto alcuni dettagli alcuni dettagli che erano mie queste due persone sono persone dell'este specializzate erano precisissime non rubavano anche se trovavano soldi all'interno della macchina lasciavano tutto lì prendevano solo quello che serviva che evidentemente riuscivano poi a commercializzare a San Costanzo invece sempre la cronaca dai quotidiani sempre dal Carlino un'anziana investita e caccia al pirata l'appello della figlia camminava col deambulatore e chi l'ha travolta non si è nemmeno fermato per mia madre che ha 76 anni e già si muoveva con il carrello per vecchi problemi interventi chirurgici non sarà facile non sarà facile ristabilirsi biodigestore a Fano divisioni nella giunta fuori Fano una sconfitta per Aset o Guccioni Simono Guccioni portavoce della lista che si chiama In Comune la lista di sinistra dell'assessore Mascarin dice per Aset è una sconfitta e poi rilancia l'allarme della CNA surreale che per la politica non sia un problema mentre per Seri dove si fa è indifferente andiamo adesso invece di nuovo sul Carlino si è spento il sorriso sempre da Fano si è spento il sorriso di Corrado Orciani il 71enne è morto martedì all'ospedale di Santa Croce per anni ha gestito il circolo Acli-Trave e si è dedicato all'Alma Juventus i funerali si terranno domani alle 15.30 nella Chiesa del Carmine nella zona al Gimarra a Fano mentre chi ha seguito chi segue le Iene su Italia 1 avrà visto che nei giorni scorsi si sono occupati di nuovo di Africa Milele e quindi del sequestro della milanese che lavorava per questa associazione di volontariato fanese Silvia Romano rapita in Kenya il Corriere Adriatico dedica questa mattina sulla pagina di Fano un articolo a questa trasmissione e rifà un po' il punto sul sequestro e in particolare sulla situazione dell'associazione fanese ho avuto il senso di colpa e non sono stata indagata dice Lilian Sora di Africa Milele che torna a parlare con le Iene del rapimento di Silvia Romano a sei mesi dalla perquisizione del ROS dei carabinieri è stato ricostruito il rapimento mentre sotto tre minorenni scappati da una comunità rintracciati alla stazione del treno Dorica sono stati rintracciati dalla polizia ferroviaria di Ancona tre minorenni che si erano allontanati da una struttura di accoglienza di Fano il gruppetto era stato notato all'interno della stazione ferroviaria di Ancona sempre da Fano pazzi per il padel l'età non conta dai 9 ai 65 anni e 1500 iscritti al sodalizio dei campi del Lido mentre sotto con Fano Biblioab i libri vanno incontro ai lettori con le biblioteche chiuse la consegna avverrà in otto punti della città a Urbino carenze infrastrutturali ed organico l'assessore ora piange sul latte versato foschi nel mirino dei CGL e CISL e categorie di settore la nostra denuncia è inascoltata agli stati generali di giugno attivando la medicina d'urgenza si sarebbe sgravato anche il pronto soccorso lite tra studenti ai collegi sedata dalla polizia minacce e provocazioni ai coetani e custodi gli autori ora rischiano una denuncia evidentemente bel vedere mezzo milione per sistemarlo l'intervento programmato è molto oneroso Gambini intanto toglieremo le erbacce ma ancora mancano soldi per attuarlo poi dalla Val Metauro la solidarietà contro il virus porta ulteriori aiuti alla sanità consegnate una lampada scialitica e un carrello per il pronto soccorso qui siamo a Fossombrone e poi stanziate 40 mila euro per le famiglie in difficoltà qui siamo a Colli al Metauro l'assessore rivela che 27 mila sono offerti dall'impresa Sadori Reti siamo allo sport la Vis si perde nella nebbia i biancorossi spariscono al Benelli di fronte a un Cesena che vince la partita senza rubare nulla secondo K.O. per il nuovo mister di Donato ieri alle prese con tante assenze che hanno pesato Vispesero che perde in casa contro il Cesena per 2 a 0 sul fronte calcistico invece Granata a fermo il Fano ha pareggiato 0 a 0 senza sussulti l'incontro un piccolo passo per entrambe destro l'allenatore si porta a casa dal suo vecchio stadio uno dei risultati che lo caratterizzavano e questa era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa grazie come sempre per averci seguito vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia arrivederci